Grazie a tutti, buonasera a te Pastore. Volevo condividere con voi qualcosa che il Signore ha messo nel cuore in questa giornata, mentre stavo pregando, stavo portando questo tempo davanti al Signore. E vorrei condividere un momento di difficoltà che il popolo di Israele ha vissuto e che ci viene raccontato nel Vecchio Testamento. Noi sappiamo che il popolo di Israele è uscito dal... in realtà poi non solo il popolo di Israele, perché la Bibbia è molto precisa in questo. Dice... la traduzione italiana dice... l'assemblea raccogliticcia, così dice la traduzione italiana. Il testo originale dice Ereb. E la parola Ereb è interessante perché in ebraico vuol dire anche arabo. E probabilmente insieme agli ebrei si erano uniti anche a... magari qualche egiziano che aveva creduto alla promessa del Signore che sarebbero stati salvati coloro che avessero messo il sangue, vi ricordate, sugli stipiti delle porte. E in realtà il Signore non fece distinzione di persone, disse semplicemente che chi avrebbe avuto il sangue, che figura chiaramente del sangue redentore di Cristo, sugli stipiti e sull'architrave delle porte, sarebbe stato risparmiato dall'ultima piaga. E così il popolo di Israele esce, noi sappiamo, con mano potente il Signore apre il Mar Rosso, il popolo di Israele passa attraverso il mare e in poco tempo il disegno del Signore era quello di portarli nella loro eredità, cioè in quella terra promessa che viene descritta in un modo meraviglioso. La terra è il paese dove scorre il latte e il miele. Questo scorre rappresenta proprio l'abbondanza, l'abbondanza della dolcezza. Un paese, disse il Signore, dove abiterai case che non hai costruito, dove berrai da pozzi che non hai scavato, dove vivrai di campi e di vigne che non hai piantato. Tutto questo ci parla del riposo. Vivere di qualcosa che è già preparato per noi, per cui non dobbiamo operare, ma dobbiamo entrare, possedere e vivere. E sappiamo che a un certo punto il popolo fu portato alla frontiera di questo paese in un luogo chiamato Kadesh Barnea. Ma lì accade qualcosa di drammatico. La scrittura ci dice che furono mandate delle spie, vi ricordate? E dovevano esplorare per 40 giorni la terra di Canaan e poi dovevano portare un rapporto di come sarebbe andata questa esplorazione. E sappiamo che dieci spie screditarono il paese e due invece, Khaled e Josué, portarono un ottimo rapporto. Ma non solo del paese, ma della loro immagine del Signore. I dieci dissero che il paese è un paese che divora i suoi abitanti e poi dicono una cosa interessante. Vengono colpiti da una razza, gli Anachiti, i figli di Anach che abitano nel paese, abitano in una zona del paese, sono giganti davanti a loro, noi sembravamo delle cavallette. Spede, il popolo di Anach è il decimo popolo che viene nominato tra i nemici di Israele nel Vecchio Testamento. Il nome Anach vuol dire catena di ferro per il collo. Sapete quei ceppi che venivano messi proprio agli schiavi? Il pastore prima parlava proprio degli uomini di colore che venivano portati, vi ricordate, con le navi dall'Africa, in quello che era chiamata la vergogna del commercio triangolare tra il 600 e il 700 nel Nuovo Mondo in America. Bene, Anach vuol dire questa catena di ferro al collo. Che cosa rappresenta? Beh, rappresenta ogni forma di schiavitù, che può essere la schiavitù della malattia, che può essere la schiavitù dell'indigenza economica, che può essere la schiavitù della paura, che può essere la schiavitù della depressione, l'angoscia, l'ansia, qualunque forma di catena. E loro vedevano più questo popolo della grandezza del Signore che li aveva liberati con una mano straordinariamente potente dal popolo degli egiziani, dalla schiavitù degli egiziani. E quindi il Signore che li aveva portati fuori a un certo punto era diventato piccolo come loro si vedevano, questi dieci diranno davanti ai giganti di Anach noi sembravamo delle cavallette. È sempre come vedi il Signore che determina come vedi te stesso. Più vedi il Signore grande, maestoso, onnipotente, più ti vedrai come figlio suo, ti vedrai protetto, ti vedrai redento. Ma quando invece vedi i nemici, gli anachiti, cioè tutto ciò che è schiavitù, la malattia, la paura, i problemi, le difficoltà, più grandi di come riesci a vedere grande il Signore, allora ti vedrai piccolo davanti a loro. E questa mormorazione, voi ovviamente il popolo di Israele seguì, purtroppo, questo report negativo, è nel libro dei numeri al capitolo 14, 28, 30. È scritto così. Di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto e voi tutti quanti siete di cui si è fatto il censimento dall'età di vent'anni in su e che avete mormorato contro di me. Attenti a queste parole. Non entrerete di certo nel paese nel quale giurai di farvi abitare. Non entrerete nel paese nel quale io giurai di farvi abitare. Perché? Perché la paura, perché l'angoscia aveva prevalso sulla fede. Ma c'è una rivelazione interessante, perché nel Nuovo Testamento questo episodio viene ripreso nella lettera agli ebrei. E spesso, molto spesso, il Nuovo Testamento dà la piena rivelazione di quello che nel Vecchio Testamento è adombrato. E nel Libro degli Ebrei, al capitolo 3, dal verso 7 al verso 11, parlando di questo episodio, l'autore della lettera agli ebrei dice queste parole. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Questo giorno della ribellione è proprio quello di cui stavamo parlando poco fa. Come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi «Sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira». Attenzione, perché adesso vengono riprese quelle parole che abbiamo letto poco fa. «Non entreranno nel mio riposo». Attenzione. Questa generazione sappiamo che per 40 anni ha vagato nel deserto ed è morta nel deserto a motivo della loro incredulità. Ma è interessante che nel Libro dei Numeri, nel Vecchio Testamento, le parole del Signore sono «Non entreranno nel mio paese». Nel Nuovo Testamento le stesse parole vengono riportate con una piccola variazione. «Non entreranno nel mio riposo». Quello che nel Vecchio era il paese, cioè la terra promessa, la terra di Canaan, nel Nuovo Testamento è chiamato riposo. Se noi mettiamo insieme questi due passi, abbiamo una rivelazione meravigliosa. Quel paese, che a quel tempo era una terra fisica ed è la terra di Israele, oggi è una dimensione di vita ed è il riposo. La terra promessa oggi è il suo riposo. E il riposo in Gesù, non il riposo fisico, perché noi possiamo riposare fisicamente, ma non riposare interiormente. No, il riposo in Gesù, il riposo nella fede di Dio, il riposo nell'opera finita del Signore al Calvario per noi, è ciò che racchiude la nostra eredità. Nel riposo di Dio c'è, ci sono le vigne che non abbiamo piantato, ci sono le case che non abbiamo costruito, i pozzi che non abbiamo scavato. C'è la guarigione nel riposo. Nel riposo c'è la possibilità per lo Spirito Santo di guidare la nostra vita. Lo Spirito Santo per guidarci, ricordate che nel capitolo 8 della lettera romana, Paolo dice, i figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio, non forzati dallo Spirito di Dio. Spirito Santo non ci spingerà mai, mentre noi induriamo il nostro cuore per la paura, per l'incredulità. Il Signore può guidarci soltanto quando siamo nel riposo. E ad esempio, pensate che nella lingua ebraica il verbo riposare e guarire hanno la stessa identica radice, perché nel riposo di Dio c'è la guarigione. Avete mai notato che Gesù amava guarire di sabato? E non è che lo facesse per far dispetto ovviamente ai custodi della legge, che vedevano, attenzione, perché si arrabbiavano? Si arrabbiavano perché vedevano la guarigione come un'opera. E siccome nel sabato si deve riposare per gli ebrei, dicevano, ma perché tu operi le guarigioni di sabato? Ma la guarigione non è un'opera. La guarigione non dipende da quello che tu fai. La guarigione non dipende dai tuoi sforzi. La guarigione non dipende da quanto tu combatti. La guarigione dipende da quanto tu riposi nella fede che il Signore, così come si è caricato di tutti i tuoi peccati, Egli si è caricato anche di tutte le tue malattie. E quindi nel riposo c'è la guarigione. Ed ecco perché Gesù guariva prevalentemente di sabato per insegnarci che è nel riposo in Gesù che noi possiamo ricevere ciò che è già nostro, la nostra eredità. Ed ecco perché non entreranno nel mio paese diventa non entreranno nel mio riposo. Oggi, se tu vuoi entrare in quella terra dove scorre la temiele, devi entrare in quel riposo. Ed è l'unico sforzo che la Bibbia chiede nel Nuovo Testamento ai credenti. sforzatevi di entrare in quel riposo. E prima di pregare insieme voglio condividere qualcosa su questo. Ho chiamato questo piccolo studio Fede per uscire, fede per entrare. I figli di Dio, noi credenti, spesso non abbiamo difficoltà con la fede per uscire, ma abbiamo molta difficoltà con la fede per entrare. Voglio spiegarvi questo piccolo gioco di parole. Vedete, il popolo di Israele non ha avuto difficoltà a credere che il Signore li avrebbe portati fuori dall'Egitto. Questa è la fede per uscire. Qual è la fede per uscire? È la fede in Gesù, per essere salvati. E non è difficile quando incontri il Signore credere, accettare Gesù come il nostro Salvatore, credere che Egli sia caricato di tutti i nostri peccati e che attraverso la fede in Lui noi possiamo essere perdonati di tutti i nostri peccati e nascere di nuovo. È abbastanza semplice la fede per uscire. Il popolo di Israele uscì abbastanza facilmente. Quando vide aprirsi il mare, entrò in mezzo all'asciutto, anche se vedevano un muro d'acqua. Dicevo ieri ai fratelli a Brescia, il mar morto ha, di media, circa 490 metri di profondità. In alcuni punti arriva fino a 4000 metri. Immaginate un muro d'acqua alto centinaia di metri. Noi nei film lo vediamo alto 20-30 metri. No, no, voi dovete immaginare un muro d'acqua alto 4, 5, 600 metri, tanta la profondità del Mar Rosso. Ma il popolo di Israele non ha avuto paura a attraversare il Mar Rosso, che è figura anche del battesimo. Il popolo ha avuto facilità a uscire, ma ha avuto difficoltà ad entrare. non ha avuto la difficoltà per uscire, che è la salvezza, credere in Gesù, uscire dal regno delle tenebre, uscire dalla morte, uscire dall'Egitto, uscire dal mondo ed entrare nel regno di Dio ed essere salvati. Non è quello difficile. Il difficile è la fele per entrare, perché quando una volta usciti dovevano poi entrare nella terra, lì ebbero difficoltà. Perché? Perché lì richiede uno sforzo. Lì devi sforzarti di dire io scelgo di entrare nel suo riposo, perché se io entro nel suo riposo io entro nella sua guarigione. Se entro nel suo riposo io entro nel suo paese. Se io entro nel suo riposo io entro nella sua abbondanza. Se io entro nel suo riposo entro nella comunione con l'eredità che già è stata ottenuta per me attraverso il prezzo infinito che suo figlio Gesù ha pagato alla croce. E allora io voglio incoraggiarti questa sera a non vivere soltanto la fede per uscire, che è quella che tu hai messo in atto quando hai creduto in Gesù e sei uscito dalla morte, sei uscito dalle tenebre, sei uscito dall'Egitto, usando la metafora del popolo di Israele, per entrare nella salvezza, per essere salvato. occorre fare un altro passaggio e è lì che il popolo di Israele catte. È la fede per entrare e per entrare nel vivere la nostra autorità. Quindi non vivere più in un deserto, ma in una terra dove scorre latte e miele, non vivere più nella malattia, ma vivere nella guarigione, non vivere più nell'ansia, ma vivere nella pace, non vivere più nel dubbio, ma vivere nella certezza. Devi fare lo sforzo di entrare, devi usare la fede per entrare. Signore, io credo che Tu hai finito il lavoro per me e io scelgo, voglio sforzarmi di riposare in Te. Anche mentre sto lavorando, io voglio riposare in Te. Anche mentre mi sto faticando, io voglio riposare in Te, perché il riposo è la chiave per la sua guarigione. Il riposo è la chiave per la sua provvigione. Il riposo è la fede per la sua protezione. E così, il riposo racchiude tutta la sua eredità. Il riposo è quel paese dove scorre la temiere. Il riposo è la posizione del nostro cuore in cui lo Spirito Santo può dire «Ok, adesso io ti guiderò». E non affannarti nel dire «Ma Signore, che cosa devo fare? Signore, dove devo andare?» Cammina ogni giorno insieme a Gesù nel riposo. Lo Spirito Santo, giorno dopo giorno, guiderà i tuoi passi come è scritto nel Salmo «I passi del giusto» e io e te siamo quel giusto. Se abbiamo creduto in Gesù, abbiamo la giustizia del Figlio di Dio imputata su di noi, i passi del giusto sono guidati dal Signore. Quindi, sappi che tu sei giusto, ma sforzati di vivere il riposo del giusto. Perché nel riposo lo Spirito Santo ti guiderà a verdeggianti pascoli, lo Spirito Santo ti porterà le acque tranquille, ti porterà alla guarigione di Gesù, a vivere ciò che già è tuo. Ma perché lo possiamo vivere, noi dobbiamo entrare in quel riposo. E quando preghiamo, non pregare affannato per conquistare. La preghiera non fa conquistare. La preghiera ci fa ricevere ciò che già ci appartiene. ma è la preghiera che nasce dal riposo. Signore, io so che tu già hai provveduto per me. Non solo la salvezza e quella la fede per uscire, ma hai provveduto l'ingresso nel tuo riposo, nella tua guarigione e la tua presenza. E so che tu sei colui che provvede per la mia vita e che lo Spirito Santo nel riposo sa, lui sa, non affannarti a fare l'opera dello Spirito Santo, lui sa come guidarti. ma per guidarti tu devi entrare nel suo riposo. E io voglio pregare adesso con voi e insieme pregare per questo e mettere in atto insieme la fede non solo per uscire che tu hai messo in pratica quando sei stato salvato, ma la fede per entrare. E io ti invito adesso a chiudere i tuoi occhi e a pregare insieme a me così. Signore, io credo che tu hai pagato il prezzo completo per me. Io ho creduto in te. Io ho creduto nella tua opera salvifica e redentrice. Sono uscito dalle tenebre attraverso la fede in Gesù e nella sua opera e oggi sono salvato. ma io voglio oggi vivere la fede per entrare e io oggi scelgo di entrare nel tuo riposo. E quando ogni giorno mi accorgerò di ritornare nell'affanno io riporterò il mio cuore nel tuo riposo. Signore, tu hai finito l'opera per me. Tu hai perdonato i miei peccati. Tu ti sei caricato delle mie malattie. La scrittura dice che da ricco ti sei fatto povero perché io venissi provveduto di tutto ciò che è il mio bisogno per vivere in questo mondo. E io voglio entrare in questo riposo. Voglio abitare le case per cui io non ho lavorato. Voglio bere dai pozzi e quello rappresenta la guarigione. Voglio bere dai pozzi che io non ho scavato. Voglio bere, voglio mangiare dalle vigne e dai frutteti che io non ho piantato. Vi ricordate quando il Signore chiama in quella parabola del banchetto? Dice tutto è pronto, dite di venire. Questo tutto è pronto è l'approvvigione e il paese che è stato preparato attraverso l'opera della croce per te. Ma per viverlo, per entrarci, devi usare la fede per entrare. Io scelgo di entrare in questo riposo. E ogni giorno io ritornerò in questo riposo, abituando il mio cuore, abituando la mia mente a vivere nel tutto il compiuto, a vivere nel riposo del Signore. Io mi sforzerò, l'unico sforzo che farò sarà quello di vivere nel tuo riposo. E questa sera, nel nome di Gesù, io voglio benedire la tua vita, prego lo Spirito Santo di aiutarti in questa fede per entrare e mentre tu stai entrando attraverso la fede, ricordati come si entra, credilo, io entro nel riposo. Lo credo con il cuore e lo confesso con la bocca. Questo è il principio della fede. Credo con il cuore e professo con la bocca. Io entro nel tuo riposo. Io lascio la paura, lascio l'ansia, lascio il vivere con i miei sforzi ed entro nel tuo riposo. Ed entrando nel tuo riposo io entro in quella terra dove scorre la temiele, in quella terra dove scorre la provvigione, in quella terra dove scorre l'amore, in quella terra dove scorre la vita, dove scorre la provvigione che viene dal cielo. E nel nome di Gesù mentre tu entri in questo sabato, in questo Shabbat, Gesù ti guarisce in questo sabato. È proprio nel giorno del riposo, è nel riposo che il Signore preferibilmente guarisce. e questa sera io voglio dirti tu e la tua famiglia entrate anche nell'eredità della vostra guarigione. Noi prendiamo autorità su ogni malattia ma anche sulle malattie che derivano dallo stress. Perché l'opposto del riposo è proprio lo stress, dall'ansia. Nel nome di Gesù, Signore, vogliamo dichiarare rotto il loop, il circolo vizioso dello stress e dell'ansia. Lo stress è nato dal peccato di Adamo quando a motivo del suo peccato la colpa che si è stesa a tutta l'umanità è tu lavorerai con il sudore della fronte, con l'ansia, con lo stress. Ma tu, Signore, che sei l'ultimo Adamo, in un altro giardino, non in Eden, ma nel Gezzemani, hai sudato sangue per redimere il sudore della fronte. E noi dichiariamo che per quel sangue che è scorgato dalla tua fronte il nostro stress è stato rotto e noi possiamo uscire da questo stress ed entrare nel tuo riposo, Signore. E io voglio dichiarare doni di guarigione in opera in questo momento, ma voglio anche dichiarare provvigione su quanti stanno aspettando un buon lavoro. Stanno aspettando la provvigione per loro e per la vostra famiglia. In questo riposo il Signore vi farà vedere la sua fedeltà. Quando tu riposi Lui opera. Quando tu ti sforzi Lui non può far nulla perché non può violarti, Lui non ti trascinerà, Lui può guidarti solo quando tu sei calmo e nel riposo. Come un bambino non può essere guidato dai genitori quando si ribella, quando un bambino si fida del proprio padre e della propria madre i genitori sanno guidarlo giorno per giorno e il tuo Padre Celeste è il miglior genitore che tu potresti avere e Lui saprà guidarti alle acque tranquille. E nel nome di Gesù Signore crediamo che in questo momento tu stai guarendo malattie, tu stai provvedendo a bisogni, tu stai portando nel riposo persone che prima di questi minuti erano nell'ansia, erano nella paura, vedevano le catene di ferro della loro malattia, vedevano le catene di ferro del loro bisogno economico, vedevano le catene di ferro della loro depressione, della loro ansia, del loro stress, venire rotte ed entrare nella libertà dei figli di Dio. E grazie Signore per le testimonianze che noi ascolteremo di quello che tu hai compiuto in questi pochi minuti e ricorda vivi e resta in questo riposo e quando ti accorgi di uscire utilizza di nuovo la fede per entrare Signore e scelgo di nuovo di entrare nel tuo riposo. questa è la dimensione della vita di un figlio di Dio. Amen che il Signore vi benedica. Amen 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 Grazie Walter Dio ti benedica alla prossima. Grazie a tutti